La particolarità di queste due tappe è che percorrono un parco, che è il parco regionale dei Monti Vicentini, che è un parco ricchissimo di acque. Ci sposteremo sotto Monte Accellica ed è una montagna simbolica perché è legata alla storia della tribù degli Irpini. L'animale totem degli Irpini, il lupo, si ammanzì sotto questa montagna e da lì gli Irpini si accamparono dal lato irpino di questa montagna. Da questa zona, nell'arco di un chilometro quadrato, nascono sicuramente tre dei fiumi più importanti delle province di Avellino e Salerno. Abbiamo da una parte il sabato e il calore e dall'altra parte invece nasce il fiume Picentino. Siamo passati dalla Faggeta, lato di Acerno, per passare invece alla zona pulviale del Picentino. La grotta dello Scalandrone e le cascate che ne derivano hanno rappresentato un aspetto paesaggistico assolutamente importante. Grazie a tutti!